Buongiorno carissime e carissime, buona giornata, siamo a venerdì quindi buon weekend, più o meno, siamo in dirittura di weekend. Carissimi e carissime, come vedete già un pochino da quello che ho messo, abbiamo qui un'entità meravigliosa che appartiene alla falange dei vecchi neri, dei pretos veios, che molti di voi probabilmente già conosceranno perché sul canale ci sono tanti spunti, tanti lavori. Questo lavoro ci viene tramandato dalla Sacra Umband per mezzo sempre dei pretos veios, quindi dei vecchi schiavi neri e per mezzo di questa bellissima entità curandera, nella sua vita ovviamente incarnata, che è Tia Lizaconga, Tia Lizaconga, Tia in italiano vuol dire Zia, Zia Lizaconga, che è realmente esistita e che nella sua vita di schiavitù comunque sia portò tramite sua mamma soprattutto delle grandi conoscenze magiche e erboristiche, magico-spirituali. Il rimedio che vi vado a presentare, che ovviamente ci ha trasmesso lei stessa, quindi una cosa meravigliosa, è un rimedio che serve tantissimo alle persone che sono sempre stanche, sempre sfinite, sempre senza forze, sempre senza voglia di fare, diciamo pure disanimate, tristi, quindi manca sia la voglia fisica, manca sia la spinta emotiva, la spinta spirituale. E perciò ci vuole un rimedio che aiuti a rialzare questa energia, sia ovviamente spirituale, perché praticamente tutto bene o male parte da un disequilibrio spirituale, che poi diventa ovviamente anche organico, ci mancherebbe altro. Perciò per tutte quelle persone che non hanno coraggio, che sono disanimate, che non hanno più stimoli, che non hanno più voglia di fare, che tirano avanti a fatica, qualunque sia la loro condizione, assolutamente, sia ovviamente sociale, sia in un contesto di un'età che può essere più giovane, meno giovane, non ha importanza, non ha alcuna importanza. Questo rimedio agisce per tutti, fatelo con fede e vedrete i risultati. È un rimedio del tutto, diciamo, naturale, così come lei ce l'ha tramandato. Allora, carissimi, carissimi, intanto guardate, gli ingredienti sono molto, molto semplici, ma molto importanti. Servono nove foglie di alloro. Può essere già seccato, può essere alloro fresco. Quindi prendete nove foglie di alloro, possibilmente non rotte, possibilmente non bucate, più sane possibili. Se le avete già essiccate, le userete essiccate, altrimenti se avete la siepe o le volete comprare fresche, nove foglie di alloro, diciamo, senza imperfezioni, possibilmente. Qui abbiamo nove chiodi di garofano, cravo da inja, come si dice. Con la loro testina, mi raccomando, sempre usate i chiodi con la loro cabesigna, la testina. Nove chiodi di garofano e una banana, di buona maturazione. Bella dolce, diciamo così. Questa è bella dolce da mangiare. Quindi, una banana. E qui c'è la maggior parte degli ingredienti. Il resto è questo. Munitevi di un vaso. Io ho preso questo perché ho tutti i vasi occupati in questo momento. Allora, un vaso capiente. Vedete, io ovviamente riuso molto anche i vasi delle conserve, li lavo, li purifico, tutto il resto. Ma, potete benissimo, per pochissimo, pochissimo, veramente, andare a comprare anche un vaso più grande. Questo in mesticheria, in ferramenta, nel supermercato. Ovviamente un vaso col tappo. Magari anche un vaso, questo potrebbe essere, credo, mezzo litro. Magari anche più grande. Così magari ci lavorate pure meglio. Questo, diciamo che potrebbe essere già piccolino. Quindi, vi munite di un bel vasotto di vetro con il suo tappo. Semplicissimo da reperire. Ben pulito, ovviamente. Questo è chiaro. Una candela bianca, normalissima, per Tia Lizzaconga, cioè Zia Lizzaconga. E poi, qui, abbiamo dell'alcol denaturato. L'alcol quello che usiamo anche o per desinfettarci o per pulire. Voi dite, certo, alcol denaturato. Tra l'altro questo è a 30 gradi. Voi magari direte, ma ai tempi di Tia Lizzaconga, l'alcol denaturato, probabilmente non c'era. No, c'era, ma in un altro formato, diciamo così. Usavano dei distillati e via discorrendo. E non c'era, ovviamente, diciamo, più industrializzato. Quindi le persone possono anche usare, per esempio, una miscela di metà acqua, metà acqua, quindi misuratela cortesemente, metà acqua e metà alcol buon gusto, che sarebbe quell'alcol molto alto, tipo 80 e rotti di gradazione, che si usa per fare liquori in casa e si trova in ogni supermercato. Lo trovate proprio perché ci si fanno i liquori casalinghi. Ha un'alta gradazione. Per questo, se decidete di usare l'alcol cosiddetto buon gusto o alcol per fare i liquori, ne misurerete esattamente un 50% di alcol da dolci, da liquori, che poi alla fine non è che ha sapore né nulla, è solo molto forte, e metà acqua pulita, eh? Come vi pare a voi. Anche di rubinetto va bene lo stesso. Poi, se volete usare la distillata, usate la distillata, non cambia assolutamente niente. L'importante è che sia acqua pulita. Altrimenti, come ci ha detto anche lei, va benissimo l'alcol denaturato. Nessun problema, eh? A voi, alla vostra intuizione e sensazione. La scelta. Allora, questo lavoro potete farlo quando volete, cioè iniziarlo quando volete. Le lune non hanno alcuna influenza. I giorni non hanno alcuna influenza. Gli orari pure. L'importante è che voi reperite questi materiali così semplici. Banana, nove foglie di alloro, nove chiodi di garofano, alcol denaturato, eh? Quello diciamo rosa, che è nella confezione rosa in genere. Poi c'è anche in confezione bianca. Oppure, al posto dell'alcol denaturato, l'equivalente in una miscela del 50%, ripeto, ripeto, di acqua pulita, pura, e del 50% di alcol buon gusto o alcol per preparare i dolci. Questo lo scegliete voi, eh? Come si fa questo lavoro? Intanto, mi raccomando, prendete un barattolo bello grande, eh? Anche più grande di questo. Poi, eh, l'esecuzione è molto semplice. Tanto andate a fermare, anche se non avete l'immagine, eh? Di Tia Lizzaconga. Andate a fermare per Tia Lizzaconga una candela bianca, la scaldate e, ovviamente, l'accendete. Adorei as almas. Adorei as almas. Adorei as almas. Cioè, adoro le anime. Adoro le anime. Adoro le anime. E chiamate l'aiuto e la forza, la sce, di Tia Lizzaconga. Eh? Salve Tia Lizzaconga. Salve Tia Lizzaconga. Salve Tia Lizzaconga. Sarava. 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 Tia Lizzaconga. Se volete chiamarla zia, nessun problema. Tia è in portoghese. Tia Lizzaconga. Ti offro questo lavoro che tu stessa ci hai tramandato per rimuovere da noi il disanimo, lo sconforto, la stanchezza, sia mentale, sia spirituale, sia fisica. Per tutti coloro che a qualsiasi ragione, ogni età, ogni condizione, si sentono sempre sfiniti, sfinite. Che tramite questo rimedio possono trovare un rapido e profondo sollievo. Tia Lizzaconga, noi ti ringraziamo e ti offriamo questo lavoro. Naturalmente con la candela accesa. Eh? Grazie Tia Lizzaconga. Grazie, grazie, grazie. A questo punto, cosa fate? Cominciate, io direi di cominciare dalla banana. Prendete la banana, quindi dolce, come vedete questa è mangiabilissima, chiaramente ora e poi le banane maturano anche prima. Deve essere una banana dolce, quindi mangiabile, né troppo verde, né nera nera nera, così. Più o meno così, quelle belle dolci e anche nutrienti, diciamo. Togliete la buccia, questa si butta via, la fate a fettine, eh? Col coltellino, a fettine, buttate tutto dentro il vaso. È molto semplice. Poi aggiungete i nove chiodi di garofono. Aggiungete uno, uno, due, tre, quattro. Cinque, sei, sette, otto e nove. Le nove foglie di alloro, eh? Se l'avete fresco bene, se no, se l'avete essiccato per qualche motivo, anche essiccato. E andate a completare, eh? Praticamente in cima, diciamo così, fino quasi all'orlo. Andate a completare con alcol denaturato. Quindi, mi faccio il gesto, ovviamente, tanto, eh? Capite, lo spero. Allora, andate a completare con questo alcol, oppure, ripeto ancora, giriamo un attimo, ecco, così. Andate a completare con una miscela di metà alcol e metà, metà alcol alimentare, quello per dolci, e metà acqua. Quindi, misurate magari con una tazza e una tazza, un bicchiere, un bicchiere. L'importante è che tutto quanto sia ben ricoperto. E, diciamo che magari è conveniente farne un barattolo abbastanza grande, eh? Perché poi sarà molto utile, perché dovrete farne poi un uso quotidiano. Quindi, andiamo a chiudere il nostro barattolo, per bene, 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 bene. E lo lasciamo, diciamo, sul tavolino di lavoro, eh? Davanti alla candela accesa, che rappresenta la luce, che rappresenta la scè, che rappresenta tia o zia Lizza Conga. E, in suo onore, eh, in suo onore, andiamo a recitare un Padre Nostro, un Ave Maria e un Gloria. Un Padre Nostro, un Ave Maria e un Gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, eccetera, eccetera. Perché? Perché i pretos veius erano estremamente, estremamente devoti, anche, ovviamente, alla figura cristiana, mariana, eccetera, eccetera. Quindi, anche se non siete, diciamo, di questo culto, per onorare tia Lizza Conga, andate a recitare con rispetto per lei, perché lo gradisce, un Padre Nostro, un Ave Maria, un Gloria, eh? Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli e secoli. Amen. Grazie, zia Lizza Conga. A questo punto, lasciate consumare la candela, eh, e il vaso, ovviamente, rimarrà in presenza, così, diciamo così, della candela. Quando la candela sarà finita, i resti, potete buttarli via tranquillamente, anche nella spazzatura, non c'è alcun problema. Prendete, finalmente, questo vaso, questo vasotto, ben pieno, e andate a metterlo, anche qui, in un luogo scuro, quindi, se non a diretto contatto della luce, in un luogo fresco, scuro, quindi, di nuovo, torniamo alle mensole, a una cantina, anche se ce l'avete, a un armadio, eh? Dove vi pare a voi? Ben chiuso. Lo tenete lì nove giorni e nove notti. Perciò, vi segnate il giorno in cui lo fate, in pratica, e contate nove giorni e nove notti. Il decimo giorno, eh, il decimo giorno che si fa, io ve lo faccio vedere, perché mi piace essere precisa. Vi munite di un colino, a maglie fitte, possibilmente a maglie fitte, di un imbutino, poi, questo liquido qua dentro, questo rimedio, o lo versate dentro un vaporizzatore pulito, come faccio spesso io, oppure, se volete, metterlo in una bottiglia, mettetelo pure in una bottiglia, quindi lo filtrate, che sia il vaporizzatore, che sia la bottiglia, lo filtrate e avrete ovviamente questo liquido, questo rimedio, che da quel momento lì voi userete in questo modo. Vale a dire, la mattina andate a vaporizzarne sui piedi, quindi sulle piante dei piedi, sul collo del piede, date una, due vaporizzate e frizionate entrambi i piedi, con questo liquido, eh, poi date, specialmente qui sulle braccia, eh, sulle braccia, a un'altra vaporizzata, anche due, vi date una bella frizionata su entrambe le braccia. Questo la mattina, lo fate la mattina, non vi preoccupate perché tanto l'odore sarà anche pure piacevole. Ovviamente non vi sciacquate, per carità di Dio, deve rimanere a contatto con la pelle. Lo stesso procedimento lo rifate la sera prima di andare a dormire. Quindi riprendete il vostro vaporizzatore o la vostra bottiglia, con questo fluido, con questo remedio, andate a frizionarvi i piedi, entrambi i piedi, e le braccia, eh, con vigore, con vigore, e anche direi con vigore anche spirituale. E vedrete, carissimi e carissime, che giorno dopo giorno, poi ognuno, come dico sempre, recepisce l'energia in modo più o meno differente, anche se in genere in modo veloce, vedrete che questa stanchezza, questa forma di, eh, di avere sempre appunto anche proprio stanchezza, non solo fisica, ma anche sconforto. Questa forma dove non vi sentite adeguati, oppure addirittura può essere anche un ottimo rimedio per quelle persone che hanno sempre paura, che sono sempre timide, che hanno paura di tutto, eh, quindi è un rimedio che fortifica questo, che fortifica corpo e che fortifica mente e che fortifica spirito, oppure chiamatelo, oppure anche anima. E andate avanti tutti i giorni, tutti i giorni, mattina e sera, basta un minuto o giù di lì, i piedi, entrambi i piedi, ve li frizionate con un pochino di preparato, entrambe le braccia, poi vi vestite come volete, fate come vi pare. La sera, prima di andare a dormire, fate la stessa identica cosa. E poi, se vi trovate bene, rifate nuovamente il preparato, così come lo avete visto nel video. Quindi, carissime e carissime, io, cosa vi devo dire? Io so già quello che accade. Comunque sia, vi invito a sperimentare questo meraviglioso rimedio, ce ne sono tantissimi, arrivano dall'antica Africa, tra l'altro, quindi da queste correnti, che sono anche poco conosciute. Provatelo, provatelo, a meno che non abbiate ovviamente allergie alle banane, allergie a chiodi di galopano, allergie all'alloro, oppure che la vostra pelle sia realmente fragile o incredibilmente fragile, che non possa sopportare l'alcol. Ma la ricetta è questa. Ricordatevi anche che comunque la frizionatura con l'alcol non è che è tanto a caso, perché i tonici, anche i tonici, diciamo, sia per uso esterno, sia per uso interno, sono in genere tutti con una componente alcolica, guarda caso. Quindi, ringraziando con tanto amore Zia Alizzaconga, Tia Alizzaconga, per tutti gli insegnamenti che ha dato nel corso del tempo e medium, compresa me, grazie Tia Alizzaconga. Ringraziando anche i nostri amati Orishah, in questo caso Yemanjah, che è la mia Orishah di testa, e mia mamma, diciamo così, quanto sono Simonetta dei Yemanjah. Carissimi e carissimi, a voi la ricetta, a voi la sperimentazione di questo rimedio ancestrale. Per adesso io vi saluto, vi aspetto nel prossimo video, un grande bacio, e grazie di essere sempre in mia compagnia.